È appena arrivata la comunicazione formale da parte dell'amministrazione delegato dell'ANAS, Gianni Vittorio Armani, che ha preso personale impegno affinché la consegna dei lavori del quarto lotto della superstrada L'Aquila Matrice ci sia entro il 15 settembre. È la presa di posizione solita e autorevole che aspettavamo. Ad affermarlo è il consigliere regionale del Partito Democratico, Pierpaolo Pietrucci. Ho ricevuto altresì la telefonata del dottor Armani, con la quale mi ha invitato a sospendere la forma di protesta non violenta, apprezzando il lavoro svolto da me e dai sindaci sul territorio in questi anni per la facilitazione e lo sblocco delle procedure. Il nostro impegno, continua Pierpaolo Pietrucci, quello dell'agente, dei sindaci e il mio supporto, sarà quello di accelerare il più possibile la realizzazione dell'opera. Il ringraziamento va a chi ha sostenuto me, gli amministratori e questi territori in tutte le forme possibili, soprattutto attraverso messaggi, telefonate, visite, incoraggiamenti. Così conclude Pierpaolo Pietrucci.